Io vorrei partire in questa sessione di casa carattere tipografico dalla testimonianza che ci ha lasciato Bruno Munari, il quale non è stato solamente un grandissimo designer, ma collaborò anche a lungo con la fonderia Nebbiolo di Butti e Novarese, che è una delle più grandi fonderie che abbiamo avuto in Italia. Nel 1971 Munari scrive un libro dal titolo Artista e Designer. In questo libro Munari fa un'operazione, distingue il ruolo di chi progetta oggetti per l'uso quotidiano da chi si occupa di essi esclusivamente come esercizio di stile. Questa distinzione è interessante, almeno a noi interessa, perché un romanzo può essere sia un'opera d'arte, anzi speriamo che ce ne siano tante di romanzi di opere d'arte, ma il suo contenitore, il libro, prima di tutto, è un frutto di una progettazione e di conseguenza anche il carattere tipografico è un oggetto di design, perché risolve alla radice un problema fondamentale, che è quello della trasmissione e della conservazione dell'informazione scritta. Ora, uno dei pregiudizi, dei preconcetti che abbiamo più in voga in Italia è che la soluzione di un problema progettuale, la creazione di un libro o la definizione di un carattere risiede da un lampo di genio, cioè arriva l'artista illuminato, il designer illuminato, arriva e con un'idea risolve il problema, possibilmente anche con uno spiccato gusto estetico. Non è vera, questa cosa è un pregiudizio, un preconcetto. La soluzione di un problema avviene piuttosto attraverso la risoluzione di un percorso di analisi preciso, quindi un metodo sostanzialmente, che si basa sull'analisi di variabili, che generalmente il metodo può essere differente a seconda di quello che si sceglie, però le variabili solitamente rimangono le stesse. Bisogna analizzare queste variabili per capire esattamente qual è il problema e risolverlo attraverso una soluzione creativa. Vediamo quali sono, la prima ovviamente è la tecnologia. Ogni epoca la sua tecnologia, anche Enrico parlerà probabilmente di tecnologie differenti, quella che ci troviamo a considerare adesso ovviamente è la tecnologia elettronica e per quello che riguarda l'editoria elettronica si basa di rifo di raffa, sempre su HTML. ovviamente ci sono anche altre alternative, però il grosso della produzione passa attraverso HTML nei suoi vari formati, HTML 1.1, HTML 5 per quel che riguarda la nuova produzione che ci sarà in futuro con EPUB 3, attualmente già avviene per le apps, quindi iPad e iPhone attraverso HTML 5. Da punto di vista invece dello stile abbiamo CSS nei vari formati, CSS 2 piuttosto che CSS 3. HTML viene utilizzato anche da Mobb Pocket che è il formato di Amazon che però non ci interessa perché in realtà non dà grande libertà di scelta e di gestione dei caratteri. Il succo fondamentalmente è che, scendo un attimo proprio velocemente nel tecnologico spinto, dobbiamo utilizzare sostanzialmente delle porzioni di codice affidandoci a una direttiva, a una specifica che si chiama headphone face, il CSS. Dobbiamo farlo per forza se vogliamo avere controllo sul carattere. I formati dei caratteri hanno la loro importanza, quelli che scegliamo, un po' come se decidessimo di utilizzare caratteri in legno piuttosto che in piombo, piuttosto che la fotocomposizione per intenderci. Abbiamo quelli più diffusi che sono TrueType e OpenType che hanno a loro volta delle caratteristiche differenti tra di loro. TrueType dà un maggiore controllo su quello che riguarda la visualizzazione a bassa risoluzione attraverso le istruzioni di hinting. OpenType invece dà maggiore libertà nel controllo di quelle che sono funzionalità avanzate, legature piuttosto che svolazzi, glifi alternativi di carattere storico. SVG è stato utilizzato in parte da iPad e iPhone per implementare i caratteri custom prima che venissero supportati TrueType e OTF e quindi abbastanza obsoleto. Nel futuro con iPad 3 il workflow di produzione web verrà introdotto anche nella produzione editoriale ma sostanzialmente è stato un sistema di incapsulamento di TrueType e OpenType. Il vero problema, queste erano le carte più o meno, il vero problema è il campo di gioco, ovvero il fatto che il campo di gioco non è più la carta ma sono ovviamente i device e sui device non c'è controllo sostanzialmente. Portano quindi una serie di problematiche e ink come tipologia di schermo verso LCD verso LED, scale di grigio colore, alta o bassa risoluzione, quando per alta risoluzione parliamo sostanzialmente di 300 o poco più dpi, normalmente si tratta di 167 dpi per gli schermi e ink e quindi una risoluzione molto bassa, inferiore di gran lunga di quella che può essere considerata la risoluzione minima per un risultato accettabile dal punto di vista della stampa tradizionale. Da questo punto di vista entra in gioco il problema della resa del carattere che viene ovviamente affrontato da ogni singolo player in gioco, è stato affrontato quantomeno da ogni singolo player in gioco con diverse tecnologie. E qua ognuno ha detto la sua, Microsoft ha lavorato sulla leggibilità del testo alle basse risoluzioni, Apple con Cortex per il rispetto di quello che è il design, sempre il designer prima, il design stilistico e visuale del designer, del type designer, Cooltype che è il prodotto di Adobe, che è stato il prodotto di Adobe e Adobe lavora sostanzialmente, essenzialmente, principalmente con strumenti finalizzati alla stampa cartacea, ha cercato invece di sviluppare un sistema di rendering che fosse fedele al risultato finale. A questo poi bisognerebbe aggiungere anche FreeType della comunità Linux, ma il risultato finale è che, in poche parole, uno stesso carattere, a seconda di come noi lo visualizziamo del device e del tipo di sistema che abbiamo alla base, viene visualizzato in maniera differente, completamente differente. Come potete immaginare, il problema maggiore è quindi quello della leggibilità, il fatto che il carattere possa essere effettivamente fruibile da chi legge. Gli inglesi hanno due terni, sono molto pragmatici per definire la leggibilità. La leggibilità riguarda la capacità di riconoscere un determinato glifo, quindi un segno, rispetto ad altri segni dello stesso alfabeto, la I maiuscola rispetto alla L minuscola. Readability riguarda invece la capacità di comprendere il significato di una parola nel contesto come insieme o limite di discreto di caratteri. Il fatto che readability significa irredability, non significa per esempio un'altra cosa. Cosa rende un testo leggibile? L'argomento è controverso, non è che c'è una risposta, c'è molta ricerca. In ultimi tempi hanno fatto un grande lavoro gli psicologi cognitivisti. Kevin Larson è uno di questi, ha lavorato sulle difficoltà di lettura dei bambini dislessici e in questo articolo del 2004 ha confusato molte di quelli che sono i falsi miti della tipografia tradizionale. Uno di questi prende in considerazione il Buma, che è la forma della parola come strumento, come elemento chiave per la riconoscibilità di un testo. La cosa non è così, o meno, sembrerebbe non essere così, un elemento essenziale per la riconoscibilità del testo è la riconoscibilità del singolo glifo. E qua subentra invece un altro genere di lavoro, svolto da questi tre personaggi, belli bardati, quasi cyborg, Fox, Chaparro e Merkel della Università di Wichita, laboratorio di usabilità, che hanno analizzato molto meticolosamente la riconoscibilità dei caratteri, in particolare la E e la O, a differenti tipologie di carattere, quindi utilizzando diversi typefaces. Cosa è venuto fuori? È venuto fuori che i caratteri tradizionali di stampa, quelli che vengono utilizzati e vengono considerati comunemente come più eleganti, come il Gramond, o comunque i tipi Grad, non vengono riconosciuti nelle visualizzazioni a schermo nel 90% dei casi, mentre invece i caratteri che possono essere considerati meno eleganti, come il Verdana e altri, perché sono stati utilizzati, sono stati testati circa una quarantina di caratteri, sono riconosciuti nel 100% dei casi, quindi vengono avvantaggiate altre forme di carattere. Che caratteristiche hanno? Beh, sono quelle che vediamo qua elencate. Essenzialmente l'altezza della X accentuata, l'altezza della X è questa, ok? Gli occhielli ampi, quindi la forma della E, più l'occhiello è ampio, più viene riconosciuto, le grazie quando sono presenti devono essere molto solide e così via. Dobbiamo considerare che sia questa la direzione del carattere da, diciamo così, privilegiare nel futuro, ovvero dal momento che abbiamo basse risoluzioni e da 10 anni la risoluzione non è aumentata con la stessa progressione con cui sono aumentati, è aumentata per esempio la potenza dei processori, è aumentata molto molto di meno. È ora di far fuori il Garamond, Garamond, Simoncini piuttosto che lo stai? No, per carità, io non ci avevo pensato. È ora di far fuori il Bembo, mettiamola così. Non è detto, non è detto per diversi motivi, vediamo come si può salvare. Allora, si può salvare il Garamond o il Bembo, per esempio già oggi, progettando e realizzando per il futuro, cercando di preparare i libri all'evoluzione. Allora, per esempio sotto Adobe Digital Edition, gli style sheet XPGT sono uno strumento che vengono utilizzati sostanzialmente per lavorare sul layout, ma possono essere ovviamente sfruttati anche per lavorare sul carattere, fornire caratteri differenziati a seconda del tipo di risoluzione che c'è a disposizione, ma non solo, anche a seconda del tipo di colore che viene messo a disposizione dal reader. La stessa cosa con meno potenzialità attualmente, però in futuro potrebbe essere ovviamente molto più interessante, avviene attraverso il CSS3 Media Queries, che è una direttiva CSS3 ufficiale, quindi utilizzabile già da subito sui device che utilizzano WebKit come strumento di rendering e possono essere utilizzati per la stessa ragione. Qua vado un attimo veloce, comunque ci sono anche altri strumenti che possono essere utilizzati per migliorare la tipografia del carattere. Passiamo ai costi. Allora, il problema essenziale dei costi è che fino adesso i caratteri sono stati a pagamento, ovviamente utilizzati nell'editoria come pagamento, adesso c'è un problema che secondo me è centrale. Le fonderie, i type designer non hanno la mia idea, tranne in pochissimi isolati casi, del fatto che la tecnologia ad font face può essere utilizzata fuori dal Web, può essere utilizzata anche per gli e-pub, per gli e-book in generale. È facile trovare un font a pagamento licenziato per il Web, ma è quasi impossibile trovarlo licenziato per il Web e per gli e-book. In sostanza gli e-book non sono nel radar di chi crea i caratteri e quindi manca la materia prima. Adesso si possono utilizzare dei caratteri a pagamento senza licenza ad font face solamente attraverso la criptazione dei dati. In futuro ci sarà, ne parlerà penso probabilmente anche Bill McCoy nel pomeriggio, la possibilità di intervenire con l'offuscamento del font anche in e-pub 3 con un algoritmo open. Però nel frattempo bisogna lavorare con quello che c'è perché l'algoritmo open verrà implementato nel tempo, non si sa quando. Quindi per adesso bisogna lavorare con quello che c'è. Cosa bisogna cercare? Nel mare dei font disponibili ci sono una serie di criteri che possono essere utilizzati e ritornano anche alcuni di quelli che sono stati elencati da Forte oggi sulla ridistribuzione per esempio. La possibilità di usare il carattere in ambito commerciale a meno di non regalare i libri, che può essere un'opzione. La possibilità di ridistribuire il software del carattere nel caso non si voglia optare per la criptazione dei dati. La varietà di stili perché ovviamente devono essere disponibili oltre che in tondo anche in corsivo, in grassetto e in maiuscoletto. L'estensione dei glifi sulla base del tipo di alfabeto che vogliamo utilizzare nella stampa del libro. Il polacco ha dei glifi che non esistono nell'alfabeto italiano per esempio. La possibilità di creare opere derivate perché se non c'è nell'alfabeto che ci interessa per forma quel determinato carattere noi potremmo avere bisogno di estendere quel carattere, quel disegno di carattere e quindi dobbiamo poter creare delle opere derivate. Qua, visto il tempo vado un po' avanti, però ecco, mi interessa visualizzare per esempio il Gentium che è utilizzato, è una licenza aperta ed è utilizzato per esempio da quinta di copertina ed è un carattere che ha delle caratteristiche che non sono proprio quelle precipue che abbiamo visto prima sulla bassa modulazione del tratto, sull'altezza della X8 eccetera eccetera, però viene utilizzato da quinta di copertina che è una casa editrice emergente online italiana perché, lo vedremo più avanti, perché sfrutta delle caratteristiche di altro genere. Il Deja Vu invece viene utilizzato tantissimo, ha delle caratteristiche molto più simili. Il Charis viene utilizzato da Penguin e ha una caratteristica particolare, è un clone sostanzialmente del Bitstream Charter, che è un crattere creato nel 1987 per le stampanti laser a 300 dpi, quindi veramente su risoluzioni molto molto basse e quindi ha una resa accettabile anche su ebook. Poi ce ne sono molti altri che non sto qua a elencare, il Bergamo che è un clone del Bembo, poi si potrebbe fare qualche esempio, il Droid che è stato creato da Google per la visualizzazione su dispositivi molto molto piccoli, il Girapagella che invece è un clone del Palatino. Anche questo ha una licenza molto molto interessante. Il contesto. Terminiamo con la definizione del contesto perché il contesto d'uso del carattere per molti versi riassume e sintetizza quanto detto in precedenza, prende molti degli elementi e poi dopo li ricombina per altre cose. Qual è il contesto d'uso del carattere tipografico nell'editoria elettronica? Beh, sicuramente è stato detto anche da Dubini questa mattina e ho sentito qualcosa di relativo a ieri detto anche da Chiariglioni, ci sono grosso modo due o tre figure, io ne ho disolato tre, ce ne sono tantissime, quelle che interessano per il carattere sono tre. La prima è quella dell'autore, chi scrive il libro, ma non solo chi l'ha scritto nel passato, chi lo scriverà nel futuro, perché magari nel futuro si utilizzerà il carattere come strumento di metacomunicazione. La scelta di un determinato tipo di carattere elettronico può essere la base per una determinata narrazione. Facciamo un esempio però dei Promessi Sposi che è più semplice. I Promessi Sposi richiedono una cura filologica particolare, non si può stampare il testo dei Promessi Sposi, questa è l'introduzione, in comic sans o in parti, perché senza considerare quelle che possono essere le conseguenze del tradimento filologico. Quindi sicuramente una cosa che chiede l'autore rispetto al carattere è il rispetto. La seconda figura è quella dell'editore. Qua molti hanno parlato del ruolo dell'editore, dello shifting verso la distribuzione eccetera eccetera. L'editore è chiamato a fare tutta una serie di scelte a monte, quindi a valutare costi, tecnologie eccetera eccetera. Però alla fine quello che chiede è che ci sia un'identità trasmessa, non solo dal carattere ovviamente, dal libro, ma il carattere diventa cruciale nella trasmissione di un concetto di identità. Kindle di Amazon. Amazon non è un editore, è un distributore, non entro nel merito, però Bezos è stato il primo probabilmente a capire l'importanza dell'uso del carattere tipografico come sistema di identificazione di un marchio all'interno dell'editoria elettronica. Per ultimo abbiamo il lettore, ma non per ultimo perché sia meno importante. Il lettore chiede essenzialmente che il testo sia leggibile, sia consultabile. Adesso utilizzare un black letter, un fracture, diventa qualcosa di probabilmente non più accettabile. Però un tempo lo era, adesso non lo è più. Il comfort è importante, è molto importante perché l'autore chiede che sia leggibile, o meglio, che non sia illegibile il testo. Perché il lettore è molto più sensibile al disagio, alla perdita, piuttosto che al comfort in sé. Però, per capirci, facilità di lettura. Ed ecco che il quadro si compone. Il carattere tipografico, moderno e probabilmente dalla direzione del futuro, si basa sul risultato delle tensioni di queste tre figure, o meglio, se si vuole, e sul gioco di pesi e contrapesi di queste tensioni, nel rispetto di queste tensioni, che si va a intervenire nella scelta del carattere per dare un'identità coerente al libro elettronico. L'autore è la cura filologica, il lettore è la leggibilità, l'editore è l'identità. In conclusione, tornando al discorso di prima, è sempre stato così, in realtà. Fin dai tempi di Gutenberg, ricerca e progresso tecnologico, costi connessi, condizioni sociali e culturali, sono queste le variabili che regolano la definizione delle nuove forme di definizione, tra cui ovviamente c'è anche quella del carattere tipografico. Il problema è che oggi stiamo lavorando con dei caratteri che non sono pensati per questo genere di lavoro, di contesto, diciamo così. Quindi dobbiamo lavorare con quello che abbiamo a disposizione, però è il ruolo di tutti noi, in realtà, considerare che la direzione che prenderà il carattere tipografico, ovvero la scrittura del domani, quella che viene utilizzata per la conservazione per tramandare i contenuti, dipenderà da noi, dalla nostra capacità di interpretare quei tre fattori che abbiamo visto prima, la tecnologia con testo e costi e dare informazione a chi deve effettivamente disegnare i caratteri che ci servono. Questo sta già più o meno avvenendo in realtà in alcuni casi, soprattutto per quel che riguarda la creazione di applicazioni per la scrittura, in alcuni casi limitatissimi per la lettura. In Italia abbiamo una scuola tipografica di disegnatori importante, da Perondi a Genomarino, a Cavedoni, che è stato un acquisto, Antonio Cavedoni, un acquisto di Apple da pochissimo, lavora a Cupertino, sta a noi. Io ho finito. Bravo Matteo. Io ringrazio la Fiera di Rimini per avermi dato questa opportunità, perché io del carattere digitale pensavo con le magnifiche sorti progressive che fosse molto definito e molto, invece ho visto che è ancora abbastanza sgranato. Nel campo nostro tipografico, sì, tipografico nostro, abbiamo il problema opposto, perché il carattere è fisico e quindi diciamo è molto definito e quindi vi ringrazio perché mi sono edotto. Comunque invitare a tallone qui è come invitare Paul Bocchus a tenere una conferenza su McDonald's, insomma una cosa così. Mi aspetto una valanga di Twitter e retweet su questa cosa. Volevo solo cogliere l'occasione, perché ciò che ci unisce è il carattere, sicuramente l'amore per il carattere. Quindi quando si parla di libri elettronici si parla poco del carattere, che è veramente il mediatore principe. Stai qua però, perché io non sono capace... Sì, sì, guarda, mi sono seccato la... E quindi fare una carellata dei caratteri da cui noi proveniamo, che ci hanno formati, perché esiste questo rapporto straordinario tra la forma e, come dire, la civiltà. Non si può prescindere dalle forme, perché altrimenti noi leggeremo da secoli libri in stenografia, poiché se le magnifiche sorti progressive sono quelle di sintetizzare, velocizzare, invece esiste proprio un rapporto. Per esempio la S si sente che è una lettera che ha delle curve e la Z si sente che ha degli angoli, quindi la civiltà passa attraverso le forme. Noi latini siamo stati dei grandi, anche se in tutto il mondo ci sono degli alfabeti meravigliosi. Allora partirei appunto vedendo questi caratteri stupendi che ci sono giunti dalla Germania, quindi caratteri nordici, sono sempre delle torte gelate meravigliose, sono dei castelli, poiché la cultura era da scalare, nel senso che, vedete, questi non so se sono merli, guelfi o ghibellini, però sono delle fortezze questi caratteri e hanno questa forza ieratica straordinaria. Quindi il gotico tutt'oggi è un carattere che ha ancora cittadinanza, certo è un carattere, come dire, duro, duro, perché è proprio come una montagna ghiacciata, però bello, bello, veramente non dobbiamo dimenticare che ci è giunta la cultura attraverso di questo. Poi scendendo a Venezia, quindi l'incontro con l'umanesimo italiano, questi ghiacciai si sgelano e quindi dalla cadenza passiamo al ritmo latino e quindi Nicolas Chanson, mandato dal re di Francia a Venezia, crea questo romano minuscolo, che è un carattere bellissimo, forte, ancora medievale. E questa è poi la base di tutti i caratteri. Vedete però che questo carattere qui è ancora medievale perché la E è tagliata obliquamente. Aspetta che vado a prendere la slide giusta. Ecco, vedete, la E è tagliata obliquamente. Questo è ancora un segno di arcaismo, bellissimo, però è arcaico. Aldo Manuzio poi nel 1496 o 95 secondo il calendario della Serenissima fa incidere da griffo questo Bembo, perché stampano appunto il Detra di Pietro Bembo, quindi la prima volta in cui si racconta una scalata a un vulcano, perché il vulcano era considerato sacro, non si saliva sui vulcani e neanche sulle montagne. Quindi nella villa vicino al Brenta racconta il papà. E questo libro è il libro dove nasce l'editoria moderna, nel senso che se noi prendiamo un bel libro di Einaudi anche degli anni 50, un bel Adelphi di oggi, un qualsiasi bel libro, i canoni sono quelli aldini perché il carattere è stupendo, ha trovato questo equilibrio meraviglioso. Le prefazioni sono brevi ma molto colte, non ci sono errori. Insomma, veramente Manuzio ha inventato l'editoria moderna. E soprattutto questo equilibrio straordinario da cui nascono tutti i caratteri successivi. Per cui, diciamo, quelli che oggi noi chiamiamo Garamond sono in realtà caratteri aldini. Quindi a Venezia hanno trovato questa... Chiedo scusa, bevo solo un po' d'acqua. Si parla di Garald posta, no? Certo. Anche se Garald è sbagliato perché quando Garamond se la faceva nei pannolini, ha messo che esistessero i pannolini, Manuzio aveva già stampato questo. Per cui ci sono 40 anni di stacco. Chiaramente non vogliamo togliere nulla Garamond, che è stato un grande, perché anche la Francia ha avuto un rinascimento sull'onda di quello italiano. Però io rimarco sempre questo fatto che l'Italia ha dato l'equilibrio. Per cui noi oggi leggiamo la struttura del maiuscolo e la struttura augustea. Perché anche il futuro di Paul Renner ha la struttura dell'augustea. E il minuscolo ha quindi uno a 2.000 anni, l'altro a 500 anni. Quindi oggi leggiamo su di questi. Adesso poi vediamo se sullo schermo sono adatti o meno. Peccato perché essendo un po' sgranati questi caratteri, il carattere deve forzarsi a essere adatto allo schermo. Dovrebbe essere il carattere che domina lo schermo, che dovrebbe cercare di valorizzare il carattere. Perché le aperture degli occhi e dei caratteri poi gli tolgono personalità. Però insomma siamo possibilisti. Poi un'altra cosa stupenda, a Venezia avviene una cosa straordinaria. Nasce il corsivo. Nel 2001 l'Italia si è dimenticata di questo primato mondiale, per cui in tutto il mondo si chiama Italico. Non hanno fatto una mostra, se non che abbia fatto una mostra a Lambrosiana, all'ultimo tuffo, e ci siamo riusciti a celebrarlo. Il carattere corsivo è un'intuizione psicologica pazzesca, perché gli studenti che scrivevano le note in corsivo leggevano poi i libri con il loro stesso carattere. Poi si pensa in corsivo. Il corsivo è una cosa stupenda, italiana. Sì, appare per la prima volta, qui nel libro tenuto in mano da Santa Caterina, questa è una xilografia e ci hanno ficcato dentro dei caratteri. Quindi appare per la prima volta nel 1500. Questa è alta gioielleria. Il carattere corsivo è gioielleria. E vedete che questi avvicinamenti della fotocomposizione, così arditi, fin troppo, perché certe volte la T maiuscola fa da ombrello alla lettera successiva, perché gli avvicinamenti sono, visto che si può fare, esageriamo. E voi vedete queste crenature, cioè questi incastri meravigliosi che Aldo Manuzio ha creato in quell'epoca, per cui, come dire, la codina di una lettera si appoggia sul balcone della lettera precedente che gli lascia cortesemente il posto. E la testa di questa si appoggia su l'altro, questa è una cosa fantastica. Ed è poi la sintesi dello stile italiano che è forza nella grazia. Ecco, questo è proprio, non dimentichiamoci che noi italiani appunto abbiamo questa straordinaria facoltà di essere anche con la testa nel nord, ma siamo mediterranei, quindi veramente un mescolamento meraviglioso. Qui sono alcuni corsivi stupendi, naturalmente successivi a Aldo Manuzio che li ha inventati, dei grandi calligrafi, i quali, sentendo la villa arte meccanica, quella che pratico io la tipografia, il teatro sul collo della villa arte meccanica, ha andato il meglio, ha andato il meglio. Come dire, no, il carattere è scritto. Anche perché c'era una sovrapposizione ancora tra la cultura manuense. Certo, gli manuense non sono scomparsi. Infatti il Luca di Urbino si vantava di avere una biblioteca dove nessun libro era fatto con la villa arte meccanica, e noi tipografi già all'epoca imitavamo la calligrafia. Poi tenete presente che la tipografia, oggi si parla di tecnologia, quindi si pensa sempre a queste cose qui, ma la tipografia è la tecnologia, perché la parola stessa vuol dire insieme di tecniche, e in più è anche lenta, quindi pensate io come sono masochista, però siamo tanto appassionati di questa meravigliosa arte. Ecco, qui Claude Garamont, quindi questa bellissima espressione, vedete la proporzione, le discendenti e le discendenti sono slanciatissime, questo crea una varietà, crea un'enfasi, crea giocoforza una grossa interlinea, e quindi Claude Garamont non gli vogliamo togliere nulla perché ha dato veramente un grande contributo anche lui, però sull'onda appunto di questa proporzione italiana. Ecco, questo è Garamont, credo che sia un carattere usatissimo in tutte le sue declinazioni ancora oggi. Poi lo vedremo più avanti anche Simoncini. Esatto, qui siamo passati, ecco, qui finalmente siamo passati a un certo punto il barocco in tipografia, il barocco cos'è? La celebrazione della voluta, dell'inutile, della fantasia e della bellezza, questo carattere di questo ungherese, dico la schis, che crea uno dei tanti caratteri barocchi, appunto questo dimostra proprio la bellezza dell'inutile. Notate anche questo leggero sguinciamento, questo rostro non è dritto, è un po' piegato. Anche questo vuol dire una tornura, una curvatura, qualcosa che non stiamo tanto alle regole, però da lì, insomma, il barocco, sappiamo la bellezza del barocco, quindi questo è Nicolas Kiss. Tra l'altro questo carattere di Kiss, torno solo un secondo indietro, soprattutto nel corsivo, nelle grandi mostre, al MoMA, in fotocomposizione è stato riportato ed è usatissimo, perché è qualcosa di moderno, di straordinario questo carattere di Nicolas Kiss. È uno dei tanti barocchi, questo è uno degli esempi, comunque la celebrazione dell'inutile, anche l'inutile è bello. Qui passiamo a William Kesslon, questo grande inglese, il quale incomincia a incidere i caratteri sulle sciabole e sui fucili. Questi lord inglesi li hanno poi considerati, ma lei è molto bravo, la finanziamo e crea una fonderia, così crea la più importante fonderia inglese, che è durata fino agli anni 30, seguita appunto dai suoi discendenti, e questo carattere tutt'oggi molti snob lo usano nel computer, perché è un carattere bellissimo, è un carattere che ha il mistero della bellezza, perché certe lettere sembrano non finite, per esempio la T sembra tagliata con la scure, però nell'insieme poi è meraviglioso, quindi questo è uno dei misteri della bellezza. Lei l'ha fatto un inglese, bravissimo. Notate quanto sono grosse le virgole. E poi c'è questo colpo d'ascia sulla testa lì, che a mio padre non piaceva, quindi quella lima glielo toglieva sempre. Quindi i tipografi modificano. Ecco, un altro grande, ammiratissimo da Bodoni, Bodoni ammirava tantissimo John Baskerville, un altro inglese, grande studioso dell'estetica, tant'è vero che prima di John Baskerville tutte le carte, ora parliamo delle carte se temo di palinfrasca, tutte le carte erano vergate perché prendevano l'impronta delle vergelle, dei ponticelli. Lui fa un tessuto così fine che crea il famoso velen, il velen, quindi si deve a questo signore il fatto, per cui non possiamo trovare delle carte non vergate prima del 1750, tutte le carte sono vergate. Questo faceva molto comodo anche i notari, a Luca Pacioli, la partita doppia, andava benissimo, per cui da un certo punto nasce il velen, che non vuol dire carta sottile necessariamente, vuol dire solo non vergata. E quindi questo John Baskerville, puoi andare solo un secondo indietro, che forse c'è il corsivo, ecco, è lui, vero? Sì, sì. Ecco, è un corsivo calligrafico, per cui questo carattere è di transizione, quindi passa dal barocco già riechegge al neoclassico. Tant'è vero che Gian Battista Bodoni vuole andare da Baskerville, se non che gli prende una colica a Torino sotto la Val di Susa, come a Erasmo, e il Duca di Parma lo raggiunge e lo coopta a Parma, dove trova la sua Crisopoli, insomma la città d'oro. E quindi questo Baskerville, guardate la bellezza, è tipico appunto questa G un po' pesante, e questa è una mela, se voi la rovesciate questa è una mela con la fogliolina, abbiamo strappato una mela, non l'abbiamo ancora addentata come Apple, ma questa è una bellissima mela. E la FT, quindi questo è un carattere usatissimo, bellissimo, e Bodoni lo ammirava, quindi questo dal barocco si porta già verso un qualcosa di un po' più algido. Il Baskerville per esempio si trova anche come scelta tra i caratteri dell'iPad, a meno che non si ingrandisca molto, ha una resa assolutamente pessima rispetto ad altri caratteri come per esempio il Georgia, tra quelli che sono creati apposta, proprio perché hanno voluto inserire un elemento anche stilistico in particolare, oltre al palatino di cui parlerai più avanti, ma la risoluzione in questo momento non è sufficiente per dare resa. Ecco, a un certo punto, il neoclassicismo, i grandi Bodoni e di Do, Bodoni rappievontese, quindi aveva come dire, era un po' del nord, però era latino, e quindi crea questa meraviglia, la meraviglia del neoclassicismo in tipografia, è un po' estatico, è un po' si autocontempla, però ha anche un segno franco, ha un segno franco, Bodoni, e quindi torniamo alla rigidità del gotico in un certo senso, ma alla franchezza del segno. Ora vedete, Bodoni da buon italiano è stata una meteora straordinaria, i Dido francesi sono stati una dinastia, hanno avuto la continuità, però vi invito a vedere quanto è più aperta la T del Bodoni rispetto a queste ali di pipistrello del Dido, che è un carattere bellissimo, però con una parola rinascimentale si potrebbe definire tristo, nel senso che è un po' così, tenete presente che io adoro la Francia, ma questo sono anche un po', ecco guardate questa codina della cu è perentoria, questa è leziosa, quindi guardate, allora diciamo di fronte a Bodoni i tedeschi si inginocchiano, perché vedono uno più tedesco di loro, perché il Piemonte è la Prussia d'Italia, però insomma questi Dido hanno dato, allora diciamo questa impronta poi ha permeato la tipografia fino al 900, perché poi c'erano questi tardo-bodoniani, queste interpretazioni, poi sì ci fu di mezzo anche la campagna d'Egitto e quindi anche esistevano già questi caratteri cosiddetti egiziani, guardate quella G se non sembrano di quelle donne dei geroglifici messa così, ed è proprio egizio questo qua. Quindi questi caratteri qui incominciano come dire nelle pubblicità, adesso parliamo solo di caratteri come dire da grande lettura, questo è un carattere che potrebbe andare benissimo già per un qualcosa che non sia una grande lettura, ma che possa cogliere l'occhio, credo che sia la campagna d'Egitto, dove Napoleone fa una battaglia, sconfigge un raiz del luogo, è la battaglia perfetta, perché distrugge l'esercito avversario e non perde un uomo, e da lì insomma poi è andata come è andata. Ecco poi a un certo punto ci scrolliamo di dosso questi tardo-bodoniani dell'Ottocento perché la fonderia De Berni di Parigi, 1872, riprende gli stilemi dell'Elzeviro, del Garamont e dell'Aldino e torna nell'editoria, diciamo la scuola elzeviriana. Quindi torniamo al Cinquecento, diciamo alla fine dell'Ottocento. Da allora nel Novecento, che è un secolo testamentario, tutti i caratteri si ammucchiano, perché qui fanno testamento, ci siamo tutti, ci siamo anche noi, e mentre prima i caratteri ogni secolo era di un carattere, il Novecento ha dato cittadinanza a tutti, tant'è vero che questo appunto poi è diventato, l'Elzeviro è diventato come dire il principe dell'editoria, anche se qualcuno può stampare benissimo in bodoni, ed è bellissimo, però ha vinto credo l'Elzeviro. Questo è un carattere particolarissimo, nel 1911 a Torino, primo cinquantenario dell'Unità d'Italia, cento anni fa viene reinciso un carattere di Rattolt veneziano e questo carattere si chiama Incunabula. E quindi nel Novecento si creano dei caratteri moderni meravigliosi, ma si torna anche al passato. Già William Morris, qualche vent'anni prima, aveva riportato l'idea del Medioevo in tipografia. Credo Matteo che non potremmo stampare un testo, diciamo un manuale sul computer con l'Incunabula. No, non si può con l'Incunabula, per i medievisti c'è lo Unicode, che è un carattere che però non ha la stessa bellezza tipografica. Tenete presente che l'Incunabula è stato l'unico carattere fuso, tutt'oggi l'unico carattere tipografico fuso con le 18 abbreviazioni mutuate dai manoscritti, per cui noi oggi potremmo comporre a mano un Incunabulo con questo carattere. E appunto ci si prese la briga nell'Undici, in questa meravigliosa manifestazione a Torino, l'esposizione universale che collimava, di ricreare, 400 anni dopo, un carattere tedesco fatto a Venezia, perché con questo carattere Ratold crea il primo frontespizio al mondo. Prima i libri erano senza frontespizio. Ora qui abbiamo un carattere stupendo italiano di Raffaello Bertieri, il Paganini, carattere assolutamente capolavoro della fonderia italiana, perché Raffaello Bertieri coglie questo carattere litografico su un albo fiorentino dell'Ottocento e lo porta alla Nebbiolo da Butti e fanno questo carattere che è stupendo, e Raffaello Bertieri è stato un grande tipografo, un grande designer, tra l'altro quest'anno accadono i 70 anni dalla sua scomparsa, morì nel 41, e questo è miratissimo all'estero, adesso non so se questo potrebbe essere adatto, però lui si è preoccupato, Bertieri, di non creare troppe differenze tra le varie lettere, per cui vedete che ritmo, che bel ritmo che hanno, non ce n'è una più sincopata, forse questo maiuscolo potrebbe essere adatto anche per lo schermo, forse, e anche questo comunque non è male, guarda la G che ha preso dall'Egizio. Ci sono ascendenti un po' alti però direi. Ascendenti un po' alti, sì sì è vero, è vero, è vero, comunque il Paganini è un capolavoro, certo poi l'Italia ha perso la guerra e questi caratteri non sono entrati in fotocomposizione, noi usiamo il carattere del vincitore perché mi ricordo nel 68 i grafici italiani avevano un solo Vangelo, l'Helvetical Times, insomma era un menu veramente ristretto, a fronte di questi caratteri italiani che sono poi rimasti nelle casse dei tipografi. Sì questi ultimi sono tutti caratteri italiani, quelli che vediamo adesso sono tutti la bustea di Butti preso dalla colonna Traiana, io so che a Roma SPQR usano il Traian che è un bellissimo nome però diciamo questo è più latino perché è anche un po' severo, il Traian è un po' leziosetto, sì e quindi questo qua è importantissimo. Poi cosa succede, aspetta torno indietro, cosa succede? Che a un certo punto nel 1900, eccolo qua, eccolo qua, nel 64 Aldo Novarese che era un creatore feracissimo perché ha creato più caratteri di lui, nessuno ha creato 300 caratteri come Aldo Novarese, fa un esperimento pazzesco, siamo nel 64, pensa, ma se gli antichi romani avessero già avuto per le mani un minuscolo, scolpendolo, come l'avrebbero fatto? Nel 64 crea il Nova Augustea che è un carattere, io ho visto anche dei titoli di giornali fatto, è divertentissimo. Questo è bello. Hanno fatto le matrici, hanno fatto i corpi, l'hanno fuso, nel 64 ragazzi, veramente questo è un esperimento per cui molto fertile l'industria italiana in quei tempi là, ma in quei tempi là l'Olivetti aveva i primi computer, insomma delle cose, non da poco. Quindi Agustea, Nova Augustea. Devo anche dire che Alessandro Butti, l'autore dell'Augustea, aveva fatto un nuovo Augustea bellissimo già negli anni 40, Novarese diciamo l'era un po' ripasticciato, ma a quel punto Butti non c'era più e ha fatto il nuovo Augustea. Questo è un esperimento divertentissimo, andatelo a cercare perché è bello, insomma questa rigidità con lo scalpello proprio, poi queste grazie qui sono nate perché poi nelle lapidi c'è più sopra e l'acqua non scolava bene e faceva, faceva delle righe che sembravano delle i, allora l'hanno allargata per fare da ombrello sotto e quindi diciamo l'ergonomia, l'estetica, insomma tutto, tout se tienne come dicono i francesi. Questo è il Dante di Hans Mardestey, un carattere bellissimo, Mardestey è il tipografo tedesco, scende in Italia, naturalmente conquistato dalla classicità, dalla bellezza e fa una sintesi, non so su quale carattere rinascimentale si sia basato, però ha un carattere bellissimo che ha avuto un grandissimo successo e quindi questo come dire è una creazione del Novecento sull'onda della grande leggibilità, bellezza, editoria e anch'esso affonda le radici nel nostro rinascimento. questo è il palatino, si vede che è fatto da un tedesco, io tra l'altro ho conosciuto bene Hermann Zaff e lo si vede perché anche lì ogni lettera tiene le distanze dall'altra e conquista la pagina. Guardate la F minuscola, sembra un cavalluccio marino, guarda, un cavalluccio marino, piccoli. E la T, beh, insomma, digerirla non è così facile comunque. Però Hermann Zaff è stato molto intelligente perché andando a Santa Maria Novella, a Verona, a Torcello, a Venezia, ha colto queste modernità che già c'erano e quindi lui stesso confessa appunto di questa desinenza italiana e pensate, mi dicono, questo è il carattere più usato al mondo, per cui, anche perché lui poi entrò nell'insegnamento nei grandi istituti americani e quindi sicuramente ha avuto una via privilegiata. Carattere importante, però, insomma, io ci vedo molta, molta Germania, ecco, però mi dicono che è il più usato al mondo questo palatino. Questo è il Garamond Simoncini, leggenda vuole che sia stato disegnato per Inaudi, non è vero, semplicemente Inaudi ha sfruttato questo bellissimo carattere, ha chiesto a Simoncini di fare i numeri alti e bassi, quelli che chiamano saltellanti, ma saltellanti a me non piace il termine saltellanti, e quindi hanno corretto un po' questo carattere, che è una creazione italiana fatta in società con una fonderia tedesca con la quale Simoncini era gemellato, quindi questa è una grandissima creazione italiana, un carattere molto bello, della monotype, scusate, della linotype, per cui patisce un po' il corsivo, perché le matrici linotype non permettono le creature, cioè ogni carattere deve stare dentro la matrice, quindi la F ha un calcio sotto, un calcio, una piedata, insomma, un po' adrizzata, però Simoncini ecco, uno di quegli caratteri, diciamo, è il nostro pane quotidiano, lo leggiamo spessissimo, questo è il carattere tallone, poi io ho qualche spessimo e ve lo farò vedere, questo noi lo usiamo rigorosamente a mano, lo ha inciso Charles Malin a Parigi, ma mio padre per intuire questo carattere si portò da Parigi all'Italia, il corsivo lo disegnò all'isola di San Giulio e il tondo alla villa di Maser palladiana, con i 40 freschi di deronese attorno e quindi voleva chiamarlo Palladio, voleva chiamarlo Palladio, ma poi quelli della fonderiera di Games scrissero caratter tallone e tallone è rimasto. Bene, comunque mi auguro veramente che il carattere diventi centrale anche nella tavoletta elettronica, perché prendiamo per le mani questo bambino con i pantaloni corti e cerchiamo di portarlo alla leggibilità. Grazie.